Tagliato il traguardo dei primi dieci anni per Vallefoglia, un comune con quasi 15.000 abitanti, istituito nel gennaio 2014 con la fusione dei comuni di Colbordolo e Sant'Angelo e Lizzola, per l'occasione il sindaco Palmiru Cchielli ha convocato una conferenza stampa per presentare il bilancio delle attività svolte in questi anni. Sono stati anni in cui la città di Vallefoglia ha svolto un ruolo centrale, è cresciuta, è cresciuta in attività produttive grazie ai nostri imprenditori, è cresciuta dal punto di vista delle nascite grazie alle famiglie, molte delle quali del sud Italia e del sud del mondo, è cresciuta con tante tante opere pubbliche. Tra le opere realizzate il comune unico a Montecchio, la nuova piazza e il teatro Giovanni Santi di Bottega, inaugurato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, notevole il lavoro svolto nelle scuole completamente rimesse a norma e ampliate, interventi anche sugli impianti sportivi come al Pala Dionigi, dove presto inizieranno i lavori di ristrutturazione, operazioni anche su asfalti e piste ciclabili per migliorare la viabilità, potenziata la rete delle telecamere per la sicurezza e gli impianti di illuminazione pubblica. Notevole il lavoro svolto in questi anni, dice il sindaco Chielli, lasciamo un comune con i conti in ordine. Lasciamo anche un buon avanzo, 10 milioni di avanzo all'amministrazione, l'utilizzo di 4 milioni di avanzo e abbiamo avuto fortuna anche dal punto di vista delle fusioni, perché è chiaro che abbiamo 1 milione e 6 all'anno, anche per i prossimi 5 anni, a prescindere da chi governerà i prossimi 5 anni. Quindi direi che lasciamo una città con un'ottima salute dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione. Diciamo che più di così non sapevamo cosa fare, abbiamo fatto di tutto e di più e speriamo che la gente possa apprezzare, anzi sono tantissimi che mi chiedono di ricandidarmi, io ho detto a tutti buoni, aspettiamo il decreto dopo l'approvazione della legge alla Camera e al Senato e poi deciderò insieme agli altri come ho sempre fatto.